Maxi operazione contro il traffico illecito di rifiuti, due arresti anche in provincia di Sernia prodotti nocivi nascosti nei terreni e nei capannoni. Scattano le ricerche per Jennifer Vigoni, la tredicenne che a Pescolanciano si è allontanata dalla casa famiglia di cui era ospite. C'è anche una giovane ricercatrice di termoli tra i 400 italiani bloccati a Israele a causa del conflitto dovrebbe rientrare in serata. I Sernia un'automobilista immortalato, un branco di cinghiali che in un'ora di punta seminava il panico tra il traffico cittadino. Il scout del gruppo Ageshi Venafro 4 al fianco del WWF nella raccolta fondi per realizzare i giardini all'interno di ospedali piedra. Buonasera, ben trovati all'appuntamento con l'informazione di TV Molise. È morto la notte scorsa all'ospedale Cardarelli di Campobasso un 85enne di Riccia coinvolto in un grave incidente stradale sulla statale 212 alle porte del paese. Nel pomeriggio di ieri l'uomo Giuseppe Panichella avrebbe perso il controllo dell'auto probabilmente a causa di un malore scontrandosi con un altro veicolo che procedeva sulla corsia opposta. L'anziano è stato subito soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto e poi trasportato presso il pronto soccorso del Cardarelli dove è morto a causa di un altro malore improvviso che l'ha colpito. Il giovane alla guida dell'altra vettura, anche lui di Riccia, è rimasto ferito ma senza gravi conseguenze. Oltre ai sanitari del 118 sul luogo dell'incidente si sono recati i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale ANAS. Maxi operazione contro il traffico illecito di rifiuti, due arresti anche in provincia di Sernia a prodotti nocivi nascosti nei terreni agricoli o in capannoni industriali. Maggiori dettagli nel servizio di Antonio Leone. Sono circa 7 mila le tonnellate di rifiuti, anche pericolosi, smaltite in modo illecito, bruciati, interrati, addirittura nascosti all'interno di capannoni. Due gli arresti anche in provincia di Sernia, uno nello stesso capoluogo e l'altro a Fornelli nella maxi operazione contro il traffico illecito e riciclaggio di rifiuti condotta dai carabinieri per la tutela dell'ambiente di Napoli. In totale sono 11 provvedimenti cautelari emessi dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della direzione distrettuale antimafia della capitale. Si tratta di imprenditori, titolari di aziende, di trasporti e società di intermediazione nel settore dell'immondizia che dovranno rispondere anche del capo d'accusa di realizzazione di discariche abusive. Oltre a Sernia coinvolte anche le province di Napoli, Milano, Roma, Brindisi, Chieti, Caserta, Frosinone e Salerno. Un'indagine ad ampio raggio è molto complessa. Gli indagati utilizzavano automezzi noleggiati presso una società terza e strane fatti, sostituendo le targhe di immatricolazione con altre riprodotte intestate ad un consorzio di trasporto rifiuti, anch'esso non coinvolto nell'inchiesta. Falsificando sul formulario il luogo di smaltimento, ricevevano degnare società produttrici di rifiuti speciali pericolosi e non, per lo più miscele bituminose provenienti dai rifiacimenti dei manti stradali che venivano abbandonate in terreni agricoli o in capannoni industriali. I carabinieri hanno persino rinvenuto un tir carico di spazzatura all'interno di un parcheggio di un supermercato. Il profitto stimato delle operazioni illecite di circa un milione di euro, importi che poi servivano a finanziare operazioni di riciclaggio, oltre alle 11 ordinanze di custodia cautelare in carcere o ai domiciliari, sono state anche sequestrate le quote delle due società, i cui titolari sono ritenuti tra i principali organizzatori del traffico di rifiuti. C'è tanta angoscia per i familiari di una studentessa termolese bloccata in Israele, familiari che sono in costante contatto con la farnesina che sta gestendo le informazioni relative alle presenze italiane in Israele per cercare di agevolare il ritorno in patria. La ragazza, come riporta a Termoli Online, si trovava con un gruppo di colleghi a Betlemme, proprio nelle ore dell'attacco di Hamas. E sono ore di apprezzione per la scomparsa di Jennifer Vigoni, tredicenne ospite della casa famiglia Giovanni Paolo II di Pescolanciano. Sono frenetiche le operazioni di ricerca coordinate dalla prefettura di Sernia. La minore, già qualche mese fa, si era resa protagonista di un gesto simile, facendo perdere le sue tracce per alcuni giorni. Si è di nuovo allontanata dalla casa famiglia di cui è ospite a Pescolanciano, Jennifer Vigoni, la tredicenne colombiana che già in passato aveva fatto perdere le sue tracce. Sono ore d'ansia per la ragazza che già si era resa protagonista di comportamenti simili. Anche nel mese di agosto, infatti, la notizia della sua scomparsa aveva lasciato col fiato sospeso un'intera comunità. Di lei non si hanno più notizie dallo scorso 8 ottobre, quando è andata via dalla struttura per minori Giovanni Paolo II di Pescolanciano. La giovane si era già allontanata il giorno precedente, ma era stata rintracciata a Sernia dopo poche ore dai carabinieri della locale compagnia. Domenica, però, Jennifer è scappata di nuovo. Per questo motivo la prefettura ha diramato un comunicato, in cui ha allegato anche delle foto chiedendo a chiunque la dovesse vedere o possa fornire informazioni utili a rintracciarla di contattare il comando compagnia carabinieri di Sernia. Subito dopo la notizia della scomparsa, fanno sapere dal palazzo di governo territoriale, hanno preso il via le operazioni di ricerca, coordinate dalla stessa prefettura e che hanno visto il coinvolgimento di tutte le forze di polizia, dei vigili del fuoco, della protezione civile e della provincia del 118. Nonostante lo sforzo profuso dalle diverse componenti impegnate nelle attività di ricerca, non si ha ancora alcuna notizia della minore scomparsa. Jennifer è alta a 1,65 m, pesa 50 kg, presenta una corporatura esile, occhi di colore scuro e capelli rossi. Al momento dell'allontanamento indossava un pantalone scuro, sportivo, di colore nero ed una canotta bianca. Questa mattina un incendio di Sterpaglia interessato con Trada Montagne ad Agnone, data la zona impervia difficilmente raggiungibile per domare le fiamme, è stato necessario l'ausilio del battifiamma da parte del personale del distaccamento dei vigili del fuoco di Agnone, diversi gli ettari di fiamme distrutti prima che l'incendio venisse spento. Il direttore generale Giovanni Di Santo ha nominato i nuovi vertici, sanitario e amministrativo dell'azienda sanitaria regionale, sono Carabellese e Matarante, il servizio del direttore Enzo Di Gaetano che ha ascoltato anche il presidente dell'Aggiunta, Francesco Roberti. Ieri sera Giovanni Di Santo, direttore generale dell'ASREM, ha nominato i due nuovi vertici dell'azienda sanitaria. Direttore amministrativo sarà Grazia Matarante, proveniente dalla ASL di Bologna. Direttore sanitario sarà il molisano Bruno Carabellese. Ma che dobbiamo aspettarci ora dopo la composizione completa dei nuovi vertici della sanità molisana? Lo abbiamo chiesto al presidente Francesco Roberti oggi in Consiglio regionale. Ci dobbiamo aspettare tutte quelle iniziative che dobbiamo mettere in campo a partire dall'abbattimento delle liste d'attesa, la riorganizzazione dei nostri ospedali e soprattutto riuscire a far sì che ci sia la possibilità di ottenere nuovo personale e quindi metterci qui di buona lena a fare i bandi perché così riusciamo a superare tutte quelle criticità nei vari reparti dove sono carenti di figure mediche ed infermieristiche e tutti quelli che sono gli operatori sanitari del settore. Oltre all'emergenza sanità c'è il problema dei conti in rosso della regione. A Roberti abbiamo chiesto l'essito dell'incontro romano con il ministro Giorgetti. Noi siamo andati a Roma a portare la realtà dei conti e dello stato di fatto dell'arte di quella che è la situazione economica e finanziaria della regione. Tenete conto che abbiamo dimostrato numeri alla mano che al di là di quelle che sono i debiti pregressi vi è anche una difficoltà strutturale con le nuove regole e con quelle che vengono messe in campo per dare i servizi su una regione quella del Monisi che è una regione piccola. Quindi i due punti dolenti sono il trasporto e la sanità che sono due punti che vengono dati finanziamenti dal livello centrale attraverso il numero degli abitanti che vivono in una regione e quindi questo per noi crea un'enorme difficoltà. Anzi questo crea un debito pubblico. Tenete conto che noi soltanto con Trenitalia abbiamo circa un debito di 50 milioni di euro e con i trasporti abbiamo un alto debito di 20 milioni di euro. Quindi in un arco di 10 anni produciamo semplicemente nonostante che solo il fondo tiene conto di 35 milioni di euro ogni anno, noi produciamo in un arco di 10 anni abbiamo prodotto 70 milioni di euro di debito. Quindi abbiamo dimostrato a Giorgetti che una regione come la nostra ha bisogno di ulteriori somme legate ai trasporti e così questo stesso discorso vale per il sistema sanitario dove in qualche maniera collegata al numero di abitanti abbiamo difficoltà da questo fondo di poter coprire tutte quelle che sono le esigenze sanitarie di una regione piccola come il Molise. Comunque sia la macchina burocratica della regione bloccata, paralizzata per la mancata approvazione del bilancio di previsione e siamo ad ottobre. Siamo arrivati ormai a quello che è il bilancio conclusivo, quindi i numeri sono chiari e c'è necessità da parte dello Stato centrale di superare lo scoglio del bilancio 2023, poi ci saranno degli aggiustamenti nel 2024, comunque in un arco di un triennio noi abbiamo bisogno di risorse aggiuntive che dovranno essere messe in campo a livello nazionale. Daniele Esaia, sindaco di Agnone, è stato indicato dal centro-sinistra quale candidato presidente della provincia di Isernia. Il nome del primo cittadino a Tomolisano è stato indicato sia dal PD che si è riunito ieri sera in assemblea, sia dal Movimento 5 Stelle dopo il primo incontro avuto in vista delle consultazioni per i vertici di via Bertha che si terranno il prossimo 19 novembre. È Isernia, un'automobilista ha immortalato un branco di cinghiali che in un'ora di punta seminavano il panico tra il traffico cittadino. Di nuovo Antonio Leone. L'automobilista che ieri mattina intorno alle 8.30 era imbottigliato nel traffico Isernino non ha potuto fare a meno di prendere il telefonino e riprendere il branco di cinghiali che nei pressi della villa comunale di Isernia faceva lo slalom tra le auto in transito e solo l'ultimo di una lunga serie di avvistamenti avvenuti negli ultimi tempi nella zona. Mai però erano stati visti in pieno giorno per di più durante un'ora di punta mentre correvano lungo il marciapiede e persino sulla carreggiata. Il centralissimo incrocio tra via De Gasperi, via Regno Ponzio e Corso Risorgimento a quell'ora è molto frequentato sia dagli automobilisti che dai pedoni. Ed è proprio qui che ieri mattina sono stati avvistati i cinghiali lungo questa strada adiacente alla villa comunale. Il branco di cinghiali ha proseguito dritto lungo questo rettilineo e poi ha girato in quella curva lì in fondo a destra. Noi questa mattina abbiamo chiesto alle persone che frequentano questa zona se in qualche modo temono per la loro incolumità. Lei frequenta spesso questa zona? Sì, frequento spesso questa zona ma non ho mai visto una scena del genere. Siamo comunque in città quindi sono abituato a vedere le persone, i ragazzi, i bimbi, gli anziani ma non certi i cinghiali. Non credo sia posto di cinghiali. Ha un po' il timore? Ma timore? Forse hanno più timore loro visto che scappavano però comunque sia una cosa certa, non è una cosa normale quindi qualche cosa che non va c'è sicuramente. Poi non saprei insomma. Non sono io a giudicare però secondo me c'è qualcosa che non va. Si potrebbe fare qualcosa? Credo proprio di sì. Lei frequenta spesso questa strada? Sì, di giorno sì fortunatamente, di notte mai, quasi mai perché non ci sto in zona. Il problema è che i cinghiali ora sono avvistati anche di giorno? Pure di giorno. Io ti ripeto non li ho incontrati nel centro abitato però dove sto io in periferia ci sono sì. Si pensa un po' prima di mettersi in cammino? Sì, tante volte di sera pure quando ritorno dal lavoro è un pericolo. Ma c'è anche chi invece la pensa diversamente lamentando scelte fatte qualche decennio fa delle quali oggi si pagano le conseguenze. In particolare il problema della presenza così diffusa dei cinghiali anche nei centri cittadini sarebbe legata all'inserimento di una specie non autoctona proveniente dall'est Europa che nel giro di pochi anni ha fatto aumentare in modo sproporzionato la popolazione degli ungulati lungo tutto l'appennino. Ha mai incrociato questi cinghiali? No, non ho cinghiali mai. Mai visto perché alle ore che vengo chiaramente non ci stanno. Il problema è che ora si fanno vedere anche di giorno. Eh vabbè, io non li ho ancora visti. So che ci stanno però non li ho mai visti io personalmente. Ci pensa un pochettino prima di mettersi in cammino all'ipotesi di poter incontrare un branco di cinghiali? Ma assolutamente no. L'importante è non impaurirsi. L'importante è non avere paura dei cinghiali. Bisogna avere paura degli uomini, non delle cinghiali. Che i cinghiali si comportano bene, i cinghiali se ne vanno. I cinghiali hanno paura, loro di noi hanno paura. Quindi io ho paura dei cacciatori, la verità. È stata archiviata, fa sapere il centro-sinistra di Termoli, la vicenda giudiziaria che ha visto coinvolti la società Mocchietti Immobiliare SRL e i componenti del Consiglio Comunale d'amministrazione guidata da Angelo Sbrocca per la revoca della delibera che consentiva alla Mocchietti Immobiliare di realizzare una lottizzazione col piano casa nella periferia sud di Termoli. La società aveva fatto opposizione all'archiviazione del procedimento penale che era stata richiesta dalla procura di Larino nei confronti degli amministratori comunali. Le ragioni dell'opposizione della società sono state disattese dal giudice penale Federico Scioli il quale è invece deciso per la definitiva archiviazione. E ancora non è noto il nome del successore di Bregantini, l'arcivescovo della diocesi di Campobasso Boiano. Intanto è stata annunciata la riapertura al culto della cattedrale di Campobasso chiusa al pubblico per motivi di sicurezza nel 2018. È ormai certo l'arcivescovo di Campobasso Boiano Bregantini che da pochi giorni ha compiuto 75 anni tra poco non sarà più alla guida della diocesi. Infatti Papa Francesco, come prescrive il codice di diritto canonico, ha accettato le sue dimissioni. In occasione di quella che sarà la cerimonia di investitura del nuovo vescovo, al momento ancora non noto il nome del successore, ci sarà la riapertura al culto della cattedrale di Campobasso. La data presunta è quella dell'8 dicembre, coincidente con la festa dell'Immacolata Concezione prima delle feste liturgiche che precedono le celebrazioni natalizie. I fedeli di Campobasso dal 2018 sono privati del più rappresentativo tempio religioso della città, una mancanza che è stata segnalata in più occasioni con proteste provenienti da associazioni e partiti politici. La cattedrale è un simbolo per la città, punto di interesse e di riferimento per i suoi cittadini, oltre che un monumento di rilevanza storico-culturale. Tanti avvenimenti rilevanti per la storia della città si sono svolti proprio in questo edificio. Come dicevamo, dal 2018 la cattedrale è chiusa al culto per la messa in sicurezza della struttura. I problemi maggiori furono rilevati al tetto, un avvalamento fra le tegole, con un cedimento delle capriate, il legno in più punti deteriorato e addirittura mancante in altri parti. Ora sembra ormai giunto a conclusione di restauro e si può immaginare che il successore di Brigantini verrà colto nella cattedrale riaperta. Intanto, fino a quella data, sarà ancora Brigantini a reggere la diocesi. Piazzale Silvia Pizzanelli si è concluso a diserni all'iter per l'intitolazione dello spazio comunale alla bambina tragicamente scomparsa nel 2020 a solo i 12 anni e adesso quel luogo in cui lei spesso giocava porta il suo nome. Con questa decisione l'amministrazione comunale vuole fissare nella memoria collettiva l'onda emotiva che si alzò nei giorni successivi alla scomparsa un simbolico lascito di affetto e benevolenza cittadina. La richiesta di procedere ad una intitolazione era stata avanzata dai residenti del quartiere, da larga parte della comunità locale. La petizione fu firmata da più di 1500 cittadini e fortemente sostenuta dalla locale sezione dell'Avis. E la natura si fa cura. Gli scout del gruppo Agesci Venafro 4 al fianco del WWF nella raccolta fondi per realizzare giardini all'interno degli ospedali pediatrici. Vediamo com'è andata l'iniziativa di lungo corso campano. Una donazione per contribuire alla creazione di oasi natura negli ospedali pediatrici. destinate ad aiutare i piccoli pazienti durante il periodo dell'adegenza. È l'obiettivo di La Natura si fa cura. Il progetto nazionale del WWF lo scorso weekend ha portato nelle piazze di città e paesi gli stand strabordanti di verde, grazie alle felci della raccolta fondi. Tra i volontari scesi in campo, insieme all'associazione ambientalista, gli scout. Chi più di loro che fanno dell'amore e del rispetto verso la natura un modo di essere, poteva dimostrarsi sensibile all'iniziativa. Anche a Venafro, lungo il centralissimo corso campano, gli emuli di Lord Baden Powell, il fondatore dello scoutismo, si sono rimboccati le maniche. Manuela, che ci fate qui sul corso di Venafro? Noi dell'Agesci Venafro 4 stiamo facendo un progetto, abbiamo aderito anche quest'anno un progetto per il WWF, stiamo facendo una raccolta fondi per i giardini e gli ospedali pediatrici e stiamo vendendo, come potete vedere, nelle piantine di felci. Sta procedendo molto bene, stiamo vendendo tanto e speriamo anzi di concludere questa bellissima iniziativa. L'auspicio è che il buon risultato di Venafro sia confermato in tutti gli altri centri in cui è comparso il banchetto del WWF. L'obiettivo nello specifico, spiegano i promotori, regalare 10 oasi ad altrettante strutture ospedaliere interamente dedicate alle cure pediatriche. Ci saranno alberi e fiori per le farfalle, siepi e stagni didattici, spazi naturali che offrano profumi, colori, suoni, superfici naturali che siano fruibili senza barriere. Non mancheranno piante aromatiche e piacevoli da toccare. Un plauso per il suo contributo va anche alla Gessi Venafro 4, una realtà ormai consolidata sul territorio. Da 40 anni ormai siamo qui sul territorio e ogni anno ci impegniamo con le iniziative di questo tipo, come ad esempio quest'anno con il WWF, mantenere sempre nella nostra mente, ricordare che l'ambiente è molto importante. In quanti siete? Noi scout del Venafro 4 siamo più o meno di 100 persone, partendo dai bambini di 8 anni fino agli adulti. Una realtà, quella degli scout a Venafro, dicevamo, anche numericamente consolidata e che potrebbe crescere ancora. Grazie. Atterrati i primi due voli da Tel Aviv con a bordo gli italiani che stanno lasciando Israele, sirene antirazzi a Tel Aviv, Hamas ha detto un razzo bomba sull'aeroporto e poi ribadisce nessuna trattativa sugli ostaggi durante la campagna militare. Rimaniamo sul tema. TG Combo 24, italiani, due italiani tra i dispersi in Israele, probabilmente presi in ostaggio. Intanto la riunione Italia-USA, Gran Bretagna, Francia e Germania, fermo sostegno a Israele è stato detto e poi priorità è la vita degli ostaggi, marito e moglie che hanno anche passaporto israeliano, quindi hanno doppia cittadinanza. Erano nel kibbutz di Beri, ha spiegato il ministro. Sull'ANSA, Giorgia Melonia, la sinagoga di Roma, c'è odio verso un intero popolo, c'è rischio di emulazione degli atti criminali da parte di Hamas e potrebbe arrivare anche da noi, ha detto. E poi andiamo sull'AGI per una notizia a tema economico. Il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime sulla crescita dell'Italia. Nel World Economic Outlook dell'Istituto di Washington, il PIL è atteso in espansione dello 0,7%, sia quest'anno che il prossimo, previsioni inferiori rispetto a quelle inserite nella Nadef. L'inflazione intanto si raffredda. Erano queste le notizie di questa sera, adesso vediamo il meteo. Il meteo è offerto da Casa di Cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino. Benvenuti al meteo di TVI Molise. Un ottobre particolare è quello che stiamo vivendo, con temperature tipiche di agosto. Dare una spiegazione a quanto sta accadendo andrebbe a richiamare connotazioni non di uso comune, per cui ci limitiamo a dirvi che l'anticiclone africano è stato spinto verso le nostre latitudini, da una parte grazie al blocco atlantico decretato ad opera di un ciclone in pieno oceano atlantico e d'altro canto da una discesa di aria fredda sui territori orientali. Immaginate una plastichina molle su cui vengono esercitate due pressioni su entrambe le estremità. Il risultato è un cuneo centrale che pende verso l'alto. Ecco, quello che sta succedendo è pressoché la stessa cosa, con la risalita dell'alta pressione verso l'Italia. Per quanto ne sappiamo, al momento non sembrerebbe che l'autunno abbia voglia di riprendersi quanto perduto. Possiamo dire che nel fine settimana deboli affondi atlantici sul nord Europa potrebbero determinare un decremento termico sui territori settentrionali, ma per la nostra regione ci sarà ancora da aspettare. Seguite i nostri aggiornamenti per restare sempre aggiornati. Intanto diamo uno sguardo alle previsioni per la giornata di oggi martedì 10 ottobre. Sulla nostra regione si prevede cielo sereno poco nuvoloso, con temperature estive e valori superiori a 30 gradi in pianura. Venti dai quadranti sud-occidentali in temporanea rotazione a nord-orientali. Mare calmo. Temperature Campobasso minima 14, massima 28. Isernia minima 15, massima 28. Termoli minima 22, massima 27. Venafro minima 16, massima 30. Vediamo adesso che tempo farà per la giornata di domani mercoledì 11 ottobre. Per la giornata di domani non ci saranno variazioni di rilievo rispetto alla giornata odierna, con tanto sole ma temperature massime che perderanno qualche grado, pur restando vistosamente sopra media. Venti di direzione variabile. Mare calmo. Temperature Campobasso minima 13, massima 27. Isernia minima 14, massima 28. Termoli minima 20, massima 26. Venafro minima 15, massima 28. E subito dopo il nostro Tg andrà in onda la rubrica sportiva a cura di Michele Visco, con tutti i risultati, le classifiche aggiornate dei campionati molisani a partire dalla Serie D. Noi invece ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento. Grazie per aver guardato il video.